E' così, cioè per la sua esperienza può essere che la percezione della corruzione in Italia dei motivi degli investimenti, lei ha diretto la parte italiana di una multinazionale, a noi interessa che le multinazionali vengano sul nostro territorio e abbiamo tutta una serie di problemi. In questa serie di problemi la corruzione dove è situata? Ma sicuramente è situata purtroppo per ovvi motivi ai primi posti, quindi io porto ovviamente gli esempi che posso portare, quindi quelli che conosco bene perché ho vissuto sulla mia pelle, la nostra è una multinazionale francese e i francesi chiaramente potrebbero tranquillamente triplicare se non di più la nostra società, l'attuale società che ha sede in Italia, ma non lo fanno per ovvi motivi, tra cui le corruzioni latenti, cioè da noi è qualcosa di incredibile. Io faccio questo esempio, inizialmente quando ho incominciato a collaborare con questa ditta francese, ho dovuto cominciare a cercare di spiegare a loro che qui era difficile competere con i miei concorrenti perché io non ho l'abitudine di pagare nessuno, nessun cliente, ma non dico tutti, ma una buona parte invece paga. Per lavorare tu paghi, paghi il capo fisio degli acquisti, paghi il tecnico che ha un certo potere in quell'azienda, perché se no tu non lavori, non lavori. Ma Castaldi, mi dico una cosa, secondo lei questa cosa succede, io vorrei capire, il titolo nostro è Così fan tutti, questa cosa succede in Italia più che negli altri paesi? Allora, io posso... Perché voglio dire, abbiamo, mi scusi, abbiamo sempre un po' questa cosa di sfustigarci, no? Ah, l'Italia è per forza, in Italia succede così, però siamo così sicuri che fuori ci siano tutte queste Santa Maria e Agoretti, nelle aziende, nelle pubbliche amministrazioni? Allora, da noi è la norma all'estero è l'eccezione, quindi ci sono ovviamente i corrotti, i concursi, ci sono dappertutto, ma da noi in Italia è la norma, tu se vuoi lavorare devi entrare in quell'ordine di idee, e se non entri in quell'ordine di idee sei in periferia. Vabbè, me la spieghi meglio quest'ordine di idee? Cosa vuol dire? Che devi dare la stecca? Praticamente sì. Cioè tu se vuoi lavorare con... Esempio, esempio, allora io mi propongo, cerchiamo di essere più chiari anche per chi... Senza fare nessun riferimento, però diciamo facciamo esempi teorici, ovviamente, teorici, sicuriamoci. Allora, esempio, io mi propongo per una consulenza ingegneristica di una certa importanza alla ditta X, nel contempo si propone anche il mio concorrente o i miei concorrenti, quindi c'è, non diciamo una gara d'appalto, ma ci sono tre o quattro realtà che ti propongono delle cose simili, quindi io propongo di fare quel progetto in un certo modo e gli altri nello stesso identico modo. Ora, normalmente in Francia, in Germania, in Inghilterra, la cosa che si guarda innanzitutto è il livello qualitativo del prodotto che tu mi dai, quindi io cliente scelgo se tu mi dai un ottimo lavoro, mi dai delle garanzie che il lavoro che tu mi dai poi va da buon fine, perfetto. In questo caso lei sta parlando che, diciamo, un interlocutore è una pubblica amministrazione, ad esempio. Non sempre una pubblica amministrazione, perché è molto diffuso anche nelle aziende private questo malessere molto italiano, dico tutto italiano, è un po' successivo. Ed è stata introdotta la corruzione tra privati, ora vediamo bene di che si tratta. Quindi, se fra tre enti, tre uffici, tre ditte di consulenza, tre fornitori, chiamiamoli fornitori così è più chiaro per tutti, se tra questi tre fornitori c'è quello, e ci sono sempre, quasi sempre, quello che in qualche modo dà la stecca, soldi, al responsabile di turno dell'azienda privata o pubblica amministrazione, io sono più esperto nell'ambito delle aziende private, però succede abbondantemente anche nelle pubbliche amministrazioni, se tu non dai la stecca, chiaramente rimani dietro, e quindi hai più difficoltà a prendere quel lavoro, evidentemente. E lei dice, in Italia questa è un po' la norma, invece all'estero è l'eccezione, quindi significa che in Francia c'è una multinazionale che va a investire, che ne so, in Germania, gli succede raramente, per cui la multinazionale che va a investire in Germania riuscirà a prendere dei lavori sulla base della propria capacità, piuttosto che no, sulla base... Sulla base della professionalità, che poi dovrebbe essere quello, io dovrei riuscire a lavorare perché sono bravo, perché riesco a fare un rapporto di qualità-prezzo anche corretto, perché poi bisogna guardare anche quanto chiedi, ovviamente. Quindi, e purtroppo questo, questo approccio, è anche un po' da portare, da trasportare quando vi sono le assunzioni del personale. Spremmo sempre in Italia. Se io devo scegliere, perché corruzione e clientelismo io li metto quasi sullo stesso piano. Adesso non voglio portare un altro argomento, però, e siccome sono molto simili, quindi se io scelgo, io sono all'estero, devo scegliere tre ingegneri, devo capire quale dei tre è il più bravo e deve essere assunto lui, quindi io il cervello, quindi come diciamo, fuga di cervello, il ragazzo in gamba è quello selezionato perché ha superato dei testi, chiaramente. Da noi non è sempre così, non dico sempre, che è eccessivo, però sicuramente conta il fatto, se conosce qualcuno, se ti è arrivata la telefonata di quella persona giusta, e quindi tra tre, magari il più asino dei tre, però è amico dell'amico dell'amico, quello è assunto, con chiaramente tutti i problemi che possono poi portare, che porta in azienda. Prima ancora degli interventi normativi c'è una questione etica che, fra virgolette, non funziona, lei dice, in Italia. Assolutamente, questo, io sono monotono, lo so, ma chi mi ha seguito, io continuo sempre a battere su questo argomento. Noi abbiamo bisogno, secondo me, di una rieducazione del popolo, proprio una rieducazione morale. E qui faccio anche un appello, mi permetto di fare anche un appello a quelli della mia generazione. Io mi permetto di dire che molto probabilmente la nostra generazione ha fallito. Dove ha fallito? Se oggi l'Italia è in queste condizioni, molto probabilmente quelli che dovevano in qualche modo educare i propri figli a una certa moralità, a un certo modo di essere, qualcosa è mancato, è diventata la norma. Esempi banali, ho il bambino, devo fare il regalo alla pediatra. Ma perché devo fare il regalo alla pediatra? Perché mi guarda meglio il bambino. Cioè, lei dice che proprio noi abbiamo questo... Nel DNA dell'italiano corrompere. Professor Vinciguerra, questa è la domanda.